Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, oggi vi proponiamo un contest perché sono in compagna di Above Design e insieme a Netskick abbiamo deciso di fare questo contest con i premi abbastanza alti però a proposito dei primi lascio la parola ad Above che vi deve dire le regole e alcune cose Bene, allora come prima cosa devo dire che il contest che Netskick ha aperto recentemente sta per finire e seconda cosa è il regolamento, ovvero che per partecipare a questo contest e essere valutati dovete 1. iscriversi a tutti i canali, ovvero al mio, a quello di Future, a Ultimate e a quello di Netskick 2. mettere mi piace al video principale che sarà quello su Ultimate GFX Central quindi se state guardando il video da un altro canale troverete il link in descrizione 2. mettere lo speed art come video risposta al video su Ultimate quindi anche qui troverete il video, il link del video in descrizione 3. usare una canzone senza copyright, per ovvi motivi e fare uno speed art a qualsiasi tema che vogliate basta solo che mettiate il logo o la scritta di Ultimate bene, ora passo la parola al Future per i premi ok, perfetto, allora i premi il primo posto troviamo 30 euro caricamento dello speed art su tutti i canali cioè quello di Netskick, quello di Abov Design il mio, future GFX e ultime di GFX Central poi cosa vi daremo? Vi daremo un GFX Pack con dentro le cose che facciamo noi i vari salvataggi, eccetera subbox su tutti i canali per un mese per un mese posto nel mio banner e quello di Abov, visto che abbiamo preso la partnership video insieme, cioè un tutorial dello speed art insieme verrà caricato sul mio canale, quello di Abov e entrata nel team Ultimate GFX Central ok, passiamo al secondo posto il secondo posto dove cosa troviamo? caricamento dello speed art su tutti i canali come al solito, sempre Netskick Abov, Future Ultimate GFX Pack subbox su tutti i canali per un mese e possibilità di entrare nel team se si ha requisiti, insomma terzo posto caricamento dello speed art su tutti i canali subbox su tutti i canali per un mese questi qua sono i premi di questo contest mi raccomando cercate di partecipare in molti se vi è sfuggita qualche regola troverate l'immagine nel video o tutto scritto in descrizione mi raccomando mettete il video di risposta sul canale Ultimate nel video di Ultimate troverete il link in descrizione se non lo state vedendo su Ultimate e il contest finirà il 26 giugno e bella ragazzi qui a Bove e Futuri che a Bove e Futuri